Buongiorno, oggi vi racconto il nostro sforzato di Valtellina, 100% nebbiolo, raccolte in un periodo, nel momento ottimale, con le condizioni ottimali, soprattutto climatiche e soprattutto anche di sanità delle uve. È un vino, diciamo, il fiore all'occhiello dei vini valtellinesi, e lo è anche dalla nostra ditta. Una volta terminato l'appassimento, che dura circa due mesi e mezzo, viene pigiato, rimane in macerazione per circa 20 giorni, dopodiché viene passato in acciaio e successivamente farà un periodo in legno. Colore rosso granata, molto brillante. Il profumo caratteristico dello sforzato, che voi non potete sentire, lo sentirete se venite a trovarci. Caratteristica è il sentore di frutto passa, particolare uva, la prugna essiccata, la ciliesia matura e una certa speziatura, dovuta chiaramente all'affinamento in legno. Al gusto, grande avvolgenza, eleganza, caratteristica del nostro nebbiolo valtellinese. Pieno, rotondo, grande persistenza. Molto piacevoli. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.